Buonasera a tutti, oggi è il 30 aprile del 2010 e iniziamo questo editoriale antimafia con la presentazione di un libro. Abbiamo scelto il libro Don Vito scritto da Francesco Lallicata e Massimo Ciancimino, uno dei figli del notissimo esponente mafioso di Cosa Nostra, Don Vito appunto Ciancimino. Questo libro è un libro che si legge facilmente, è molto bello, la penna raffinata di Francesco Lallicata, giornalista impegnato nella lotta contro la mafia da anni, già amico di Giovanni Falcone. Non è un caso che viene scritto da Francesco Lallicata che raccoglie le dichiarazioni di Massimo Ciancimino. Tra l'altro nel libro c'è anche la collaborazione di un altro fratello di Massimo, Giovanni. Dicevo non è un caso perché Francesco Lallicata è stato uno dei primi, forse il primo, che raccolse una confidenza, uno sfogo di Giovanni Falcone quando Giovanni Falcone appunto aveva appena ricevuto l'attentato famoso alla Daura che solo per un caso, grazie a un poliziotto che si è accorso in tempo, Giovanni Falcone non saltò in aria, non fu ucciso insieme ad alcuni colleghi giudici che venivano dalla Svizzera e si salvò la vita. In quella frangente, una di quelle sere, Giovanni Falcone, amareggiato e molto triste, ma sempre ancora di più determinato a proseguire la sua lotta contro la criminalità mafiosa, confitò a Francesco Lallicata che quell'attentato, sventato in quell'occasione, era frutto non solo di cosa nostra, ma di menti raffinatissime. Oggi, a distanza di oltre venti anni dall'attentato alla Daura e poi dopo purtroppo la strage di Capaci, la strage di Vidia d'Amelio, oggi Francesco Lallicata scrive un libro con Massimo Ciancimino, all'interno del quale, in questo libro, noi troviamo tracce, secondo me prove evidenti, di quelle menti raffinatissime. In sostanza, Massimo Ciancimino, ormai noto alla cronaca del nostro Paese, come un collaboratore della giustizia, è il termine secondo me più esatto, non pentito, non dichiarante, un testimone della giustizia che sta rivalando ai magistrati palermitani, a quelli di Caltanissetta e a quelli di Firenze, le verità che lui conosce, come testimone indiretto perché è stato l'accompagnatore ufficiale del padre, Don Vito, per tantissimi anni. In questo libro emerge molto la vicenda umana di Massimo Ciancimino, un figlio che è stato messo, come dice lui stesso nel libro, sotto guinsaglio, tra virgolette, dal padre, perché figlio ribelle, perché figlio che doveva essere messo sotto controllo e di fatto diventa il segretario personale, l'accompagnatore ufficiale, il tuttofare del papà Vito Ciancimino e quindi Massimo Ciancimino scopre delle verità terribili durante la sua crescita, forse la sua infanzia e poi persino la sua maturità, fino a essere la persona che, la prima persona che vede la morte del padre a Roma nel 2001. Nel libro ci sono delle verità terribili, Massimo Ciancimino conferma la trattativa tra la mafia e lo Stato, Massimo Ciancimino racconta a Francesco Lalicata, ripeto, oltre alla vicenda umana, della quale non dico quasi nulla, spero che voi lettori della nostra rivista possiate comprare il libro e vi renderete conto che è una vicenda molto particolare, molto importante da leggere. Ma la cosa più importante che voi dovete leggere sono le dichiarazioni di Massimo Ciancimino. Nel libro si parla della trattativa tra la mafia e lo Stato, ci sono i servizi segreti che sembra abbiano partecipato alle stragi, ci sono i servizi segreti nella trattativa tra Bernardo Provenzano, Massimo Ciancimino e lo Stato stesso, e ci sono molte, molte verità che di fatto forse già conoscevamo, ma lette dall'interno diventano inquietanti e terribili. Ancora una volta viene confermato il fatto che fino a che non si scoprono, non hanno dei nomi quei mandanti delle stragi degli anni 90, secondo il mio modestissimo parere, non possiamo parlare ancora di servizi deviati o di Stato deviato, dobbiamo parlare di mafia Stato. So che all'interno dello Stato ci sono uomini intergerrimi, dei giusti come i magistrati di Palermo, anche alcuni uomini politici, ma lo Stato deve avere il coraggio di dire tutte le verità, finché non lo farà allora continueremo a essere governati dalla mafia.